We go! We go! A non farti ammazzare e a uccidere a vista qualunque mercenario sulla vostra strada. Rimbocchiamoci le mani. Cominciamo! Eliminate quei bastardi! Forza, risolviamo la questione. E dei guai più! Perfetto! Perfetto! Non mi piacevi per niente! Perfetto! 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 iersa di questa muazzina!! Che va meglio! Vieni! Prendi! L'ho lanciando! Von! E ora qualcosa di completamente diverso! Ah, figlio di schermata blu, gente. Il computer è morto. Torno appena possibile. Torno appena possibile. Ok, il problema sembra risolto. A voi com'è andata? Randy! Bravo, è stato difficile. Se l'abbiamo fatta... Arriva! Servivano proprio. Bene, sotto a chi tocca. Che ne dite di... Ah, ci rizziamo. Mercenari in vista. Scommetto che non sono qui per cantare kumbaya. Ricevuto, Sandy. Su, mettiamoci alla porta. Mettiamoci alla porta! Go! No, non, che ci sono disfatti ora. Ok, non, non, non... Ok, non vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non vedo più buffoni in giro. Ottimo lavoro. Ok, salvi. Qui è tranquillino. Queste le prendo io. Chi cerca, trova. Oho, signore della guerra è in rotta di collisione. Mi fa sul serio. Ma sì, scappa! Tanto ti troverò! Non mi uscirai vivo! Ti metti a farlo da fao! Fermali! Noi! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.